Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video in cui andrò ad assaggiare una bevanda molto particolare che ho trovato in un Asian Market a Trieste. Si tratta di questa bevanda in questa lattina, è una bevanda al mangostano che è il frutto che vedete sulla lattina e che vi faccio vedere adesso da vicino. Appunto come vedete almeno la parte esteriore sembra quasi una melanzana ma all'interno non so esattamente da cosa possa sembrare, almeno da questa immagine, appunto è in lattina quindi non posso sapere che cosa c'è dentro esattamente, quindi di colore perlomeno, è un prodotto thailandese e vi lascio appunto sia gli ingredienti che i valori nutrizionali se siete interessati. Anche questa lattina qui, come la perla burrobirra, è un pochino più grande rispetto alle nostre lattine, quindi io direi di andare ad aprire e poi ad assaggiare. se ce la faccio. Ok, almeno vederla così il colore sembra abbastanza chiaro e l'odore non sembra male. Ok, andiamo a versare per vedere appunto di che colore è. Ok, non sembra particolarmente frizzante e appunto vedete che sembra tipo acqua sporca. L'odore in realtà mi ricorda qualcosa ma non riesco ad individuarlo e a capire esattamente che cosa, quindi dire di procedere direttamente con l'assaggio non dovrebbe comunque essere troppo dolce, almeno appunto dalla sensazione che ho dal punto di vista olfattivo. in realtà a berlo così sembra quasi un tè alla pesca, più o meno. E anche effettivamente il sapore ricorda un pochino vagamente, secondo me, almeno quello della pesca. Sembra forse un pochino più denso, almeno rispetto al tè, però comunque sia è buono. Quindi direi che il nettare di mangostano in questo caso è approvato, quindi se lo trovate potete provarlo, almeno vi toglierte la curiosità e magari vi fate anche sapere, secondo voi, se sa effettivamente un pochino ricorda un po' il sapore della pesca. Per questo video è tutto, se vi è piaciuto lasciate un like e iscrivetevi al canale, magari attivando anche la campanella in modo tale da non perdervi i prossimi video. In descrizione trovate tutti i miei social in cui seguirmi anche al di fuori dei video di YouTube. Noi ci vediamo al prossimo video, have a nice life!